La passeggiata tra amici per sfruttare all'aria aperta la giornata di sole sfocia in un giorno di Pasquetta drammatico per una famiglia di Calvene che piange la morte improvvisa di un pensionato di 70 anni residente in paese deceduto per probabile attacco cardiaco nel territorio delle ricercive del Bacchiglione, tra Villa Berla e Caldogno. Il malore letale ha tolto la vita all'uomo che stava camminando in compagnia di altre persone intorno al bacino di laminazione costruito una decina di anni fa. L'allarme con richiesta di soccorso è stato lanciato al 118 alle 10.30, dopo che il settantenne ha accusato una fitta di dolore accasciandosi al suolo senza riprendersi sul posto un'ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vicenza, nonostante le manovre di rianimazione operate a lungo, la morte è sopraggiunta in pochi minuti. Il nome della vittima del probabile malore sarà resa nota nelle prossime ore solo dopo la certezza dell'avvenuta comunicazione ai parenti.